L'avventura sta per cominciare. Voglio cantare. Voglio cantare fino a quando ho fiato in gola. E questo è il primo passo. X-Factor riparte dalle audizioni. Ho tanta energia, un animale da pacco scerico. Stile, personalità. E questo è l'X-Factor. In attesa del live in esclusiva su Sky 1, quattro serate per decidere chi entrerà a far parte del team di artisti più prestigioso. Non smetterò mai di crederci. E una serata speciale per conoscere da vicino i concorrenti e i quattro giudici. Speciale X-Factor, martedì 24 settembre, dalle 21 su cielo. Lo spettacolo inizia da qui.